Cari amici di Toscana Sprint, ci troviamo sotto il loggiato di San Domenico in San Mignato in provincia di Pisa per la presentazione di una gara storica ormai nazionale giunta alla 77esima edizione, il Gran Premio Cuoio e Pelli, organizzata dalla Unione Ciclistica Santa Croce sull'Arno che si svolgerà il sabato 2 settembre, cambiamento ovviamente quest'anno di data, spostamento al sabato per una gara veramente storica. 180 chilometri, diversi traguardi volanti da affrontare con l'asperità di poggiadorno come sempre a fare, l'anno scorso fu vinta da Francesco Pirro della Maltinti Lampadari Banca di Cambiano, noi siamo andati a sentire i protagonisti di questa serata, di questa presentazione di una gara come quella del Cuoio e Pelli. Siamo con Romano Nieri, Assessore allo sport del Comune di Santa Maria a Monte, insomma anche quest'anno vicini a questa gara storica che è il Cuoio e Pelli. 77 edizioni di questa gara che attraverserà proprio anche il vostro comune. Sì, di fatti di questo ne siamo molto orgogliosi, è una manifestazione lodevole, lodevole anche che devo ringraziare gli organizzatori proprio per questa manifestazione e appunto anche perché girano proprio nei centri storici questa manifestazione che è una cosa secondo me molto importante in quanto praticamente potrebbe far conoscere i borghi e tutto quanto, quindi dovrebbe essere ancora, come si può dire, affinata. Lordano Arzilli, Assessore allo sport del Comune di San Mignato, insomma quest'anno sempre più vicini al GP, al Gran Premio Cuoio e Pelli con ovviamente non solo la gara che attraversa il vostro comune, però quest'anno avete dato qualcosa di più perché avete anche ospitato qui sottologiato la presentazione, un bellissimo scenario tra l'altro. Sì, no, chiaramente è bellissimo avere tutti i comuni, i sindaci, gli assessori per quanto riguarda questa gara quindi questo vuol dire veramente fare squadra e rappresentare la nostra zona perché poi quando la portiamo la dobbiamo portare fuori da questa comprensoria e portarla a livello nazionale, ecco per quale motivo quindi mi faceva piacere dimostrare la vicinanza a Santa Croce sull'Arno perché fanno un evento importante a livello agonistico nazionale e anche internazionale perché ci sono ciclisti che non sono solo chiaramente nazionali ma anche internazionali e quindi era doveroso, doveroso per San Mignato ospitare quindi la conferenza stampa qui a San Mignato e presentare quindi la gara ciclistica a San Mignato poi uno scenario, loggiato di San Domenico, quindi bellissimi, storici, quindi qui si fanno gli eventi più favolosi a livello culturale, io sono l'assessore alla cultura quindi anche per questo mi piace che sia San Mignato ospitare questo evento particolare. Simone Coltelli, assessore allo sport del comune di Santa Croce sull'Arno insomma, mese di settembre inizia sempre questo Gran Premio Cuoio e Pelli che siamo giunti alla settantasettesima edizione, anche per voi è un vanto no? perché tra l'altro da un paio di anni si sono uniti altri cinque comuni insieme a voi Sì certo, loro praticamente l'unione ciclistica è un vanto sicuramente perché sta peronando la causa da qualche anno coinvolgendo cinque amministrazioni e quindi ci vuole tutta la loro passione e competenza per se ha difficoltà oggi a parlare solo con un'amministrazione, figuriamoci con cinque contemporaneamente per una solita gara, il solito giorno, ognuno ha le sue esigenze quindi è veramente un gruppo affiatato, ormai collaudato da anni che viene da le esperienze anche più importanti diciamo che Gran Premio del Cuoio sì, è una gara importantissima a livello dilettantistico ma insomma Santa Croce ha organizzato anche in passato cose ben importanti insomma settimana tricolore, che questo gruppo non era in prima persona ma era dietro le quinte e poi chiaramente con l'esperienza si sono avvalsi di questa esperienza per fare ulteriori passi in avanti come coinvolgere queste amministrazioni e far conoscere il comprensorio che è il comprensorio del cuoio e delle pelli insomma Siamo con l'assessore Alessandro Vararo del comune di Montopoli in Valdarno insomma da un paio di anni vi siete legati a questa gara, il Gran Premio Industria del Cuoio e del Pelli qualcosa per far conoscere sempre di più anche il vostro territorio insieme agli altri cinque comuni e attraverserà anche quest'anno il vostro comune con una nuova maglia Sì infatti siamo molto fieri e partecipiamo ormai da qualche anno con entusiasmo a questo giro perché creiamo sia in questo sport perché è uno sport di fatica ma è anche uno sport di gruppo e che fa conoscere così come si vede nei grandi giri ma ancora di più nel dilettantismo proprio la parte bella del nostro territorio quindi ora noi siamo nella prima parte ovviamente della corsa però siamo veramente orgogliosi di vedere i ragazzi passare al nostro territorio e far conoscere anche attraverso la tv e non solo il territorio e partecipare tutti insieme con tutti gli altri comuni e comprensori Federico Grossi assessore allo sport del comune di Castelfranco di Sotto insomma anche quest'anno sarete presenti con un traguardo volante in questo Gran Premio Industria del Cuoio e delle Pelli qualcosa che sicuramente fa di più anche per voi in qualità di turismo e tutto Sicuramente è un evento sportivo importantissimo un evento che si rinnova per la settantiesima edizione quindi vuol dire avere una capacità organizzativa e anche delle forze di persone che ogni anno curano e mettono passione come ogni anno noi saremo interessati dal passaggio dalle Cerbaie che è il nostro territorio naturalistico di pregio quindi via Poggiadorno il passaggio lungo la riserva naturale dello Stato di Montefalcone quindi ci sarà anche una promozione del territorio che è intimamente legata a questo evento sportivo così importante per tutto il Val d'Arno Alessio Spinelli sindaco di Fuscecchio allora anche quest'anno questo connubio con gli altri comuni per questo Gran Premio Industria del Cuoio e delle Pelli qualcosa in più per valorizzare anche il territorio poi Fuscecchio con il ciclismo ha un legame particolare Siamo particolarmente contenti e soddisfatti di far parte di questo bellissimo gruppo la Toscana è terra di ciclismo quindi la storia ci insegna che nel nostro DNA la bicicletta c'è e devo dire che girare per tutti i comuni è bello ci fa stare insieme e ci fa condividere una passione che abbiamo tutti insieme noi a Fuscecchio abbiamo un'altra ganzissima esperienza la Cispiosa è una ludico pedalata si gira un po' per le campagne ci si ferma, si beve negli agriturismi, si riparte è un po' l'eroica della nostra zona il Covid ci ha un po' stoppato qualche anno ma si sta riprendendo sempre con Federico, Micheli e con tutta l'organizzazione e quindi andiamo avanti lo sport accomuna un po' tutte le passioni e con grande entusiasmo l'amministrazione comunale di Fuscecchio sarà sempre al fianco di chi instancabilmente dedica il proprio tempo per gli altri quindi grazie al volontariato, grazie all'organizzazione e poi a tutti coloro che verranno a vedere questa bella manifestazione sabato Siamo con Stefano Gronchi della Gronchi Safety Group insomma anche quest'anno sponsor di questa manifestazione è giunta la 76esima edizione del Gran Premio Industria del Cuoio e delle Pelli non siete mai voluti mancare il vostro appoggio all'Unione Ciclistica Santa Croce sull'Anne e lo farete anche quest'anno? No, sono dieci anni ormai forse più che con l'Unione Ciclistica Santa Crocese la seguiamo, la sponsorizziamo grandi soddisfazioni ma soprattutto io sono un amante del ciclismo in particolare soprattutto anche a livello pubblicitario si gira tutto il comprensione del cuoio un po' l'anima del nostro lavoro Siete voluti essere presenti anche ad esempio nell'anno del Covid che fu un anno molto difficile l'Unione Ciclistica Santa Croce organizzò diverse gare, dieci gare mi sembra in una giornata incredibile quindi anche l'impegno va premiato tante volte Sì, insomma non possiamo abbandonare chi ci ha dato soddisfazione e soprattutto a cui abbiamo dato soddisfazione durante il Covid fu molto difficile mi fu chiesto se intendevo continuare nella difficoltà se ci mancherebbe altro insomma, nelle difficoltà è il momento in cui si deve dimostrare la ripartenza perché se durante la difficoltà ci si ferma allora tutto frama tutto si ferma e abbandoniamo tutti la barca nella barca siamo rimasti abbiamo remato il Gran Premio è andato avanti penso anche l'organizzazione che è stata fatta durante il Covid e quella del giro, del circuito ha reso molto quest'anno si ripeterà come l'anno scorso e penso che renderà anche quest'anno a livello di pubblico e di interesse Antonio Montecalvo della Alanchim insomma anche lei qui presenta questa presentazione sarà ovviamente sponsor di questa manifestazione che è il Gran Premio Industria del Cuoio e delle Pelli avete voluto premiare l'impegno dell'Unione Ciclistica Santa Croce sull'Arno? Buonasera a tutti è un piacere essere qui come sportivo come sponsor perché crediamo come azienda che i valori dello sport siano la base della crescita e quindi dobbiamo aiutare nel nostro piccolo questi atleti a crescere nel mondo sportivo e poi un domani nella vita quindi è veramente un piacere che per il terzo anno essere uno degli sponsor di questa manifestazione che è sempre piacevole vederla e essere nei partecipi nel nostro piccolo ecco uno dei tanti impegni sponsorizzati quest'anno no? perché nel mese di giugno siete stati sponsor anche del Giro della Valdera organizzato da Claudio De Angeli siete anche lì stati quindi vuol dire che il connubio con il ciclismo ormai è forte è uno sport che piace di cui sono appassionato sono anche un ciclista amatoriale quindi perché no aiutare questi giovani a venire fuori in questo sport che possa dare più soddisfazioni possibili al nostro territorio e perché no al nostro nome aziendale che è presente in queste manifestazioni Fabrizio Bontempi della struttura tecnica nazionale qui a San Mignato per la presentazione di una gara come il Gran Premio Industria del Cuoio e delle Pelli è difficile ritrovare gare storiche come queste che comunque continuano a portare avanti tradizione con un percorso anche abbastanza particolare Ma sì innanzitutto ringrazio il Presidente Micheli per l'invito e ho colto l'occasione di venire a trovare diciamo il Presidente a questa presentazione appunto del Gran Premio Cuoio e Pelli perché anche domani poi sarò al giro della Lunigiana quindi ho cercato di unire un po' l'utile al dilettevole chiaramente è una gara storica ci tenevo ad essere presente alla presentazione e percorso bello bellissimo anzi su diciamo dove di solito emergono corridori di valore perché il percorso non è durissimo però neanche non è neanche troppo facile quindi per forza dovrà emergere un corridore di valore di spessore Ecco da quest'anno all'incalegare magari i nazionali possono partecipare alle formazioni continental con i primi anni una scelta ovviamente anche dettata per far fare anche di più esperienza a quelli che passano dalla categoria Juniors al passaggio Under 23 Sì chiaramente diciamo l'input della federazione è quello di riuscire a trasformare tante gare in gare nazionali per dare appunto queste possibilità la Toscana su questo ha una tradizione veramente importante perché anche io quando ero corridore ho gareggiato in tantissime gare regionali che ci piacerebbe ecco a livello di federazione ci piacerebbe diventassero anche gare nazionali per dare un po' più di importanza a queste gare che lo meritano per la tradizione per i partecipanti e per tutto questo questa diciamo questa tradizione che c'è qua di ciclismo in Toscana chiaramente il fatto che possano partecipare anche alle continente dà un valore aggiunto appunto a queste gare insomma Saverio Metti presidente del comitato regionale toscano qua a San Mignato per la presentazione di una gara storica 77 dizioni del cuoio e pelli grande impegno da parte di Federico Micheli e dei suoi uomini sì io sono affezionato particolarmente perché con Federico insomma è un rapporto continuo però vedo che veramente vengono fatte le cose in modo di passione proprio con la passione dentro questo si ritrova poi dopo anche nell'organizzazione della gara la sicurezza tutto quello che ci va intorno io sono contento perché quando si arriva a dei numeri così 77 bisogna che ci sia all'interno una continua evoluzione anche di migliorarsi anche di rigenerarsi e loro l'hanno fatto perché Federico chiaramente ci ha messo tutto il suo impegno tutta la sua voglia però c'è anche un gruppo di persone intorno che insomma gli danno una bella mano diciamo che credo che questa sia diventata ormai una manifestazione che ha avuto tanti vincitori che magari sono passati professionisti e sono diventati anche dei campioni quindi io sono contento ora sabato speriamo di vedere una bella gara una gara vincente sicuramente credo che l'anno scorso fu di vittoria di una società toscana speriamo che anche quest'anno lo sia diciamo che è abbastanza complesso perché le gare nazionali di questo livello sono sempre difficili però siamo abbastanza fiduciosi Fabrizio Arzilli vicepresidente dell'Unione Celistica Santa Croce sull'Arno ormai ci siamo manca pochi giorni a questa settantasettesima edizione del Gampeo Coi e Pelli grande sforzo anche quest'anno tanti partenti è un percorso sempre imprevedibile sì il percorso cerchiamo di venire sempre sul percorso classico i partenti il numero dei partenti c'è ci aspettiamo una gara combattuta movimentata e che dia un po' di spettacolo come di solito avviene in questo percorso ecco come sempre attraverserete sempre i sei comuni la partenza a Santa Croce sull'Arno poi ovviamente ci saranno i vari traguardi volanti avete mantenuto anche il memory al Davide Faraoni questo ovviamente anche per ricordare una persona che ha genitori Carlo e Luciana legati al ciclismo e poi ovviamente l'arrivo finale sì è rimasto più o meno tutto simile il percorso è cambiato in piccole parti ma quasi nulla gli sponsor sono sempre gli stessi ci danno una mano Carlo e la Luciana sono sempre presenti è una cosa che a loro piace a noi piace ricordare il loro figlio e nulla noi ci stiamo impegnando a migliorare anche tante cose sulla sicurezza dei ragazzi il nostro obiettivo diciamo è cercare di migliorare anche più sulla sicurezza Federico Micheli Presidente dell'Unione Cilistica Santa Croce sull'Arno anche quest'anno 77 edizioni uno spostamento una modifica si sposta al sabato la vostra gara però percorso che rimane intanto 180 km e soprattutto partenti di primo livello sì abbiamo fatto questa modifica per abbiamo un progetto in ballo con un'altra società di un'altra corsa però poi non è andata a buon fine quindi siamo dovuti rimanere nella data che avevamo preso del sabato sarà una scommessa noi ce la metteremo tutta abbiamo ovviamente intensificato il discorso sulla sicurezza avremo la scorta della polizia stradale in più da quello che avevamo l'anno scorso più le 14 scorte tecniche più quasi 100 persone a terra e tutto il personale che abbiamo noi di primo ordine abbiamo messo tutte le forze in campo possibili per tenere il livello più alto possibile sulla sicurezza verranno mantenuti ovviamente gli ultimi due anni questi traguardi volanti giusto perché ci saranno i traguardi volanti nell'attraversamento dei vari sei comuni che attraverseremo prima di ripassare sotto Santa Croce sull'Arno e poi ovviamente questo memorial Davide Faraoni anche quest'anno presente sì Luciano e Carlo ci hanno ridato la fiducia di fare questo memorial e lo facciamo molto volentieri e lo faremo davanti alla sua fabbrica e poi ci sono i sei traguardi volanti nei sei comuni che attraverseremo ormai è diventata una classica diciamo e daremo la maglia al vincitore del traguardo volante e al sindaco del comune che verrà attraversato secondo noi è anche un modo per rispettare l'impegno che ci mettono i nostri comuni e veramente la passione che ci mettono perché ci danno tanta disponibilità e ci mettono tutto quello che hanno per noi per farci fare una bella figura no 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 no